Adesso è un pochino più teorica, ma lascio perdere. Grillo che cosa ci ha detto in sostanza? Va bene, io ho fatto il parlamentare tanti anni e so che fare il parlamentare e fare politica bene, usiamo un'espressione, cogli l'attimo. C'è un momento in cui tu capisci che puoi far passare qualcosa di importante, non puoi fare la telefonata, dire prima sentiamo la rete. È una negazione, perché io devo presentare entro le ore 15 l'emendamento e so che oggi ci sono le condizioni per farla approvare. Allora, quando si dice, c'è un paradosso in questo discorso di Grillo, che la democrazia partecipativa è più lenta nelle sue possibilità di realizzazione della vecchia democrazia rappresentativa, perché se io dico al parlamentare 5 Stelle, tu prima di presentare un emendamento sacrosanto, ammettiamo che fosse sacrosanto, che stava nel programma, tu devi consultare la rete, evidentemente hai creato qualcosa di paradossale. Quindi questo è un punto. Seconda questione.